Ehi ciao come va? Sono Michele, bentornato, sono contento di rivederti in questo nuovo video sulla programmazione per principianti. Oggi parleremo di una cosa potentissima che rappresenta il prossimo concetto su cui costruire delle solide fondamenta per la programmazione. Parleremo dell'istruzione IF. L'istruzione IF merita un intero video dedicato perché è l'istruzione principale ed è la più nota tra quelle di controllo del flusso. Per controllo del flusso intendiamo di poter prendere decisioni e di poter prendere un percorso o un altro all'interno del nostro codice, come delle strade alternative per arrivare a destinazione. Per il momento prendiamo questo concetto per buono, lo comprenderemo di più mano a mano che andiamo avanti nel video. L'istruzione IF è di fondamentale importanza perché è la prima che ci permette di prendere delle decisioni, dicevamo, al verificarsi o meno di determinate condizioni, esattamente come facciamo prima di uscire di casa. Guardiamo fuori e diciamo se piove prendo l'ombrello, altrimenti esco senza. Alla fine di questo video conosceremo meglio l'istruzione IF, avremo appreso che cosa si intende per decisione o meglio per condizione e avremo creato un semplice programma che utilizza questa istruzione. Ma basta con le chiacchiere, entriamo subito nel vivo, andiamo nel computer e realizziamo il primo programma con l'istruzione IF insieme. Ricordo che per seguire i tutorial e avere gli stessi strumenti che io utilizzo durante queste dimostrazioni c'è il primo video dove spiego come installare Visa Studio Code e l'Sdk di .NET. Utilizziamo C-Sharp e questi strumenti perché sono gratuiti. Vi metto il link qui sopra il video per comodità. Ci tengo a dire che i concetti che vediamo sono assolutamente generici e validi per qualunque linguaggio vogliamo imparare. A meno di variazioni molto piccole sulla sintassi e quindi su come si scrivono cose particolari del linguaggio, il concetto è applicabile in generale in tutti gli ambiti della programmazione. Allora eccoci nel computer, io mi sono in una cartella vuota nella mia C-TEMP dove tengo i file temporanei. Creiamo una nuova cartella dedicata a questo programma dove impariamo ad usare l'istruzione IF e lo chiamiamo Imparo IF. Ok, vado dentro alla cartella e apro una nuova finestra. Ok, apro una nuova riga di comando. Io uso Windows Terminal, puoi usare PowerShell, puoi usare CMD. Windows Terminal te lo consiglio, lo puoi trovare gratuitamente nel Microsoft Store. Metto anche il link nella descrizione del video. Allora, ricreiamo una nuova applicazione console come abbiamo visto negli episodi precedenti con .NET New Console. Ci verrà predisposta per noi un'applicazione, lo scheletro di un'applicazione console che noi andremo a modificare. Eccolo qui abbiamo il nostro program CS. Apro la cartella con Visual Studio Code, quindi apro Visual Studio Code pulito, faccio un file open folder, ctempimparo if, seleziono la cartella e ci sono dentro. Modifico il program .cs, io mi sono già preparato delle righe di codice da un'altra parte, le copio e incollo e le commentiamo insieme. Bene, abbiamo davanti a noi questo programma. Questo programma chiede all'utente un numero e determina se è pari o dispari. E quindi a seconda dell'input utente, prenderà una decisione e dirà ha inserito un numero pari o ha inserito un numero dispari. Quindi, ecco che abbiamo un semplice uso dell'operatore if. L'istruzione if lo vediamo qui. E come è composta l'istruzione if? L'istruzione if ha appunto la scritta if e poi, tra parentesi tonde, una condizione. Questa condizione è espressa con un'operazione matematica di tipo booleano, il che significa che restituisce un valore di tipo vero o falso. Quindi, se si verifica una certa condizione vero, allora entro qui dentro, entro in questa parte del codice. Se la condizione specificata tra parentesi tonda è vera, entro in questa parte del codice. Altrimenti, entro else, altrimenti in inglese, entro in quest'altra parte del codice. Quindi, l'istruzione if è composta da if, condizione, un blocco di istruzioni che io eseguo se la condizione è vera e un altro blocco di istruzioni che io vado ad eseguire nel caso la condizione sia falsa. La condizione in questo caso specifico è che il numero inserito dall'utente sia pari. Con questa dicitura andiamo a determinare se il numero è pari o dispari. Andiamo ad interpretarla. Allora, il numero è inserito, è la variabile. Poi vediamo come qui arriva il numero, come ci arriva il numero inserito dall'utente. Andiamo ad utilizzare l'operatore modulo 2. Modulo è l'operatore matematico che ci permette di avere il resto di una divisione. Quindi qui, con numero inserito modulo 2, stiamo andando ad estrarre il resto della divisione per 2 del numero inserito dall'utente. Se il resto di una divisione per 2 è uguale a 0, allora so che sto maneggiando, ho davanti a me, un numero pari. E quindi posso scrivere il numero inserito è pari. Altrimenti, non ci resta che da dire che il numero inserito è dispari. E eseguiamo subito questo programma. Apro terminal qua sotto. Vado a ricordarmi dalle lezioni precedenti come si compila e esegue un programma utilizzando l'Sdk del .NET. Quindi scrivo .NET run. Il programma a questo punto parte. Viene compilato, dovrebbe partire subitissimo. Chiedendoci di inserire un numero intero. Eccolo qua, inserisce un numero intero. Io scrivo 23. Il numero inserito è dispari. Premio invio per terminare. 23 diviso 2 non dà resto 0. Lo eseguo di nuovo. .NET run. Inserisci un numero. 4. 4 diviso 2 dà resto 0. Il numero inserito è pari. Premere invio per terminare. Ok, vediamo, commentiamo riga per riga questo programma ora che l'abbiamo visto in azione. Con la riga 9, console.writeline, vado a chiedere, vado a scrivere sulla console, inserisce un numero intero. Quindi chiedo all'utente di inserire un numero intero. Leggo il numero, cioè che scrive l'utente con la tastiera, tramite console.readline e lo metto in una variabile di tipo string. Console.readline, da specifica del C Sharp, mi restituisce una variabile di tipo string. Essendo C Sharp un linguaggio tipizzato, devo lavorare con variabili dello stesso tipo. Quindi prendo quello che l'utente scrive con la tastiera e me lo salvo in una zona di memoria dedicata a contenere del testo, che chiamo input. Questo input poi, in riga 11, cosa faccio? Lo vado a convertire in un numero, perché posso fare operazioni matematiche solo sulle variabili numeriche. Di certo non ha senso dire, dividere per due la parola ombrello, non ha senso una divisione su un dato di tipo testo. Quindi io vado a convertire l'input in un numero intero e lo faccio con questa istruzione che il C Sharp mi mette a disposizione. Converte.int32 e gli dico che cosa convertire, in questo caso l'input dell'utente. Lo assegno il risultato della conversione a una variabile di tipo intero che si chiama numero inserito. A questo punto andiamo in riga 13, dove incontriamo il nostro blocco if. If condizione, che abbiamo già commentato, quindi mi chiedo se il numero diviso per due dà un resto a zero. Allora pari, altrimenti scrivo dispari. Infine, in riga 23, scrivo premio invio per terminare e con console.readline resto in attesa che l'utente prema invio e il programma finisce. Torniamo a parlare dell'operazione if, in particolare dell'else. L'else non è obbligatorio. Quindi se io devo prendere, fare un qualcosa solo se esiste una determinata condizione, esempio, if piove, prendo ombrello, altrimenti non faccio niente. Non sono obbligato a specificare un else. Ci sono tanti casi in cui questo è vero. Una cosa che vorrei far notare su questo esempio è l'operatore di uguaglianza. Come possiamo vedere, per domandarci se qualcosa è uguale a qualcos'altro, non scriviamo un semplice uguale, ma scriviamo uguale uguale. Questa sintassi si usa in tantissimi linguaggi perché l'operatore uguale da solo è utilizzato per assegnare il valore a una variabile, quindi come vediamo qui sopra in riga 12, dove il risultato della conversione del numero viene assegnato, quindi inserito nella zona di memoria, chiamata numero inserito. Mentre qui sotto, in riga 14, andiamo a chiederci effettivamente se quello che c'è a sinistra dell'operatore di uguaglianza è uguale a quello che c'è a destra dell'operatore di uguaglianza. Un altro modo che si usa un po' meno, ma comunque si può incontrare per utilizzare l'operatore if, è quello di concatenarli uno dietro l'altro. Ad esempio, if condizione, E qui andrò a scrivere qualcosa, vado a fare qualcosa. Else If Condizione 2 Vado a fare qualcos'altro Else if Condizione 3 Vado a fare qualcos'altro ancora, fino ad arrivare a un else finale, dove dico Non ho alternative che fare questo. Andiamo a commentarlo un attimo. Cosa significa? Significa, come si deve leggere questa cosa, che If Condizione, quindi verifico la prima condizione. Se questa condizione è vera, allora eseguo queste righe di codice. Tutte le altre vengono ignorate, quindi il flusso del programma va direttamente qui sotto. Se invece questa condizione è falsa, si passa in riga 28. Quindi, il programma si domanderà se è vera la condizione 2. If Condizione 2 Se questa condizione è vera, si esegue qualcos'altro, cioè questa parte qui. Una volta che questo si è eseguito, il flusso del codice va qui sotto. Se invece condizione 2 non è vera, il programma valuta condizione 3. Quindi, se questa è vera, no. Condizione 2 è vera, no. Condizione 3 è vera o falsa? Se è vera, faccio qualcos'altro ancora. Una volta che l'ho fatto, il programma va qui sotto. Altrimenti, cioè quindi quando ho eseguito, quando ho verificato tutte le condizioni precedenti, se proprio nessuna di queste è vera, allora non ho alternative che fare questo. Lo mettiamo un attimo in, che ne so, giallo. Una volta che questo, io ho eseguito il blocco di codice qui dentro, allora il flusso poi va direttamente sotto. Questo è un modo per mettere in cascata, verificare in cascata delle condizioni. Quindi, è vero questo o no? Mi chiedo in cascata. Allora è vero quest'altro o no? Allora è vero quest'altro? Finché non arrivo in fondo. Abbiamo visto quindi come si usa l'istruzione IF e che cos'è una condizione, che viene valutata per decidere se prendere una ramificazione o un'altra all'interno del nostro codice. E abbiamo quindi imparato la prima istruzione per modificare il flusso del nostro programma. Lascio nella descrizione del video dei link con degli ulteriori approfondimenti su dei concetti che abbiamo toccato oggi, ma che se li avessimo esplorati avrebbero allungato notevolmente la durata di questo video. Quindi che cos'è una condizione o un'espressione booleana. Metto anche un collegamento a quelli che sono dei diagrammi di flusso. Ci sarà un video dedicato e sono degli diagrammi che ci aiutano a rappresentare la struttura di un pezzo di codice. E ti metto anche il link agli episodi precedenti. Per i nuovi episodi della serie ricordati di mettere un mi piace a questo video e iscriviti al canale così verrai immediatamente notificato quando ci sarà una nuova lezione.